Buongiorno e buon inizio di settimana dal Cetems. Da qualche giorno una vasta area di alta pressione sull'Europa centrale impedisce all'anticiclone delle Azzorre di estendersi fino al Mediterraneo. Questo provoca una moderata instabilità con frequente formazioni di nuvole e soprattutto sviluppo dei temporali pomeridiani, soprattutto sulle aree di montagna. Questa situazione è destinata a perdurare anche per i primi giorni di questa settimana. Oggi il cielo sull'Abruzzo si presenta sparsamente nuvoloso, poi nel corso della mattina questa nuvolosità tenderà a diradarsi lungo la fascia costiera, mentre tenderà ad aumentare sulle aree interne, dando luogo appunto a questi isolati temporali oggi soprattutto lungo la fascia al confine con il Lazio. Le temperature saranno simili a quelle di ieri con massi comprese fra 22 e 24 gradi. I venti saranno di debole intensità con rinforzi sulle montagne e provenienti da nord-est. Il mare poco mosso. Domani avremo una giornata ancora inizialmente sparsamente nuvolosa, poi nel corso della mattina avremo sempre ancora aumento della nuvolosità con isolati temporali sempre sulle aree interne, però stavolta in estensione durante la serata anche verso la fascia costiera. Per dopodomani mercoledì la tendenza sarà per una giornata più soleggiata, ma sempre caratterizzata da temporali pomeridiani in sviluppo nelle aree dell'entroterra. Per il me è tutto, vi auguro buona giornata.